Sarà un sabato di corsa a Pescara e non per la frenesia del traffico ma per la Maratona d'Annunziana, l'annuale appuntamento sportivo giunto ormai alla diciannovesima edizione. Sarò lì ad applaudirli, a correre comunque dalla mattina prestissimo per preparare il percorso, per fare tutti gli allestimenti, per cercare di coordinare tutti i vari settori di un'organizzazione che continua a crescere, grazie a Dio cresce insieme ai numeri, alle partecipazioni e anche al tasso tecnico. La Maratona, organizzata in collaborazione con la WISP, l'ente di promozione sportiva, sarà corsa principalmente sulla riviera e vedrà la partecipazione di numerosi atleti. La Maratona nasce ed è un evento agonistico di alto livello, è una manifestazione nazionale WISP, assegna il titolo regionale di Maratona, è valido per 50 punti del circuito Corrillo Abruzzo-WISP. Ma non solo agonisti, anche quest'anno infatti è prevista la passeggiata d'Annunziana, un itinerario alla portata anche dei meno allenati alla riscoperta dei luoghi più caratteristici di Pescara. La Maratona da quest'anno sinceramente si apre anche ad una passeggiata d'Annunziana, dove si unisce il sociale ed è qui che fanno parte ben quattro associazioni, che insieme lottano contro la prevenzione e per realizzare progetti di solidarietà. La competizione è al via sabato mattina, tanti partecipanti attesi da tutto l'Abruzzo e non solo. Più o meno saranno 2000 i partecipanti che verranno da tutta Italia e non solo, anche dall'estero. Quindi anche per il territorio sarà veramente un grande vanto. Avremo la possibilità di far vedere la nostra bellissima Pescara e inoltre ci sono stati anche dei servizi aggiuntivi con pacchi gara e premi, dove valorizzeremo sicuramente i prodotti del nostro territorio. Grazie a tutti.